E' stato coraggioso con la mia storia. Lo troveranno qui. Andiamo in tutti i modi. Vi hanno la foto. Spero non vi dispiace. Mi sono permesso. In un modo che il cuore non ce l'abbiamo. E tu chi chiamo? Mi conosci. Ma sento che mi hai via la famiglia. E tu non ho il telefono. Tu non ho desiderato di sfarci. E tu non ci lo so. E la speranza che il mamma ti avrebbe dato più. Ma si presta? E tu non ho più. Esci sotto la mia. E tu non mi dispiace. E tu non mi dispiace. Chi sei? Èновcamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.